Musica Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Cleto Festival in compagnia di Baba Sissoko che è un percussionista del Mali, giusto? Sì, del Mali, mi sento afro-calabrese perché vivo in Calabria da tanti anni e questo festival sette anni fa io sono uno di un'artista che è venuto a suonare per loro e la prima volta quando è arrivato veramente mi sentivo a casa da un'altra terra che ho quasi mai conosciuto. E da lì ho capito che Calabria è un'altra terra che deve visitare perché c'è tante cose da imparare e tante cose belle a vedere all'occhio. Lato qua mi trovo a casa mia. Ma penso che ci sia anche uno scambio per i cletesi nei tuoi confronti. Come no, perché loro dall'inizio hanno dato fiducia alla mia musica che piace a loro, che sono giovani, che sono sempre curiosi di connettere tante culture diverse. E per rapporto a questo rispetto delle culture racconto le due culture diverse e per questo che sono ancora contento di ritornare da questa terra. Baba, com'è nata la tua passione per le percussioni? E' nato e sono nato da mia casa perché ho imparato la musica a casa mia, che mio nonno suonava, mio padre suonava, mia madre cantava, ancora mia madre canta. Io ho imparato la musica a casa, come mio figlio adesso che è piccolo, Robertino, che stasera suonava qualche brano con me. La musica a casa mia si impara con cervello e cuore, non è una cosa che scrivo perché deve sentire. Eh sì, da qua. Eh sì, quanto sento, il messaggio che tu senti arriva al tuo pubblico perché quando un artista sale sul parco deve mettere a disposizione a tuo pubblico. E da lì quanto tu senti davvero la tua musica, ti piace a te, arriva anche al tuo pubblico. Il messaggio deve essere vero e chiaro. Da questa terra di Calabria, soprattutto a Cleto qua, su questo castello, una città veramente come un cartolino che c'è tante storie qua. Io penso che i giovani non sono baiati a seguire loro dal primo giorno, dal primo racconto, sette anni fa, otto anni fa. E quando mi ha invitato ho sentito che loro sono pronti a essere messaggeri, sono pronti a fare connetto la loro terra dove è nato loro, il rispetto della loro terra. E per questo che io sono qua. È un rispetto reciproco perché comunque nasce dalla fratellanza, il fatto dell'accoglienza del Cleto Festival perché è di tutti il Cleto Festival. Tutte le persone che, come hai detto tu, hanno cuore, cervello e lo mettono a disposizione della popolazione e dell'umanità intera. Sì, il Cleto Festival, questi giovani fanno questa bella festa, un amore, un amore della loro cultura, un rispetto della loro giovan... Sì, diciamo dei giovani che tramandano... E' effettivamente che loro vogliono che la loro terra devono continuare a vivere. Quindi sono giovani che fanno questa cosa, un passione, un amore, un piacere, non un business, non una cosa familiare. E' una solidarietà, un sociale, un festival sociale, un festival di racconti, di solidarietà. E la vita alla fine è così, perché il problema c'è per tutti dalla vita e io prego sempre di raccontare veri persone. Veri persone sono pochi, pochi, pochi. Ma però racconto sempre. Quando ho conosciuto Franco, mi ha presentato tutti i suoi colleghi, i suoi amici che loro hanno pensato a questo. Da primo giorno fino ad oggi io sono molto contento. Dopo sette anni ritorno ancora da questa bellissima terra e stasera facciamo festa. Io aspetto solo a fare festa. Anche noi. Tra l'altro lo sai che c'è una frase che dice niente accade per caso, tutto accade tenuto per mano. Niente, il caso non esiste. C'è un augurio in malesse che tu puoi fare a noi a Cleto Festival come appunto buon auspicio per l'amore, per la fratellanza e per la buona musica? C'è un'amore. 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 Noi giovani deve sempre combattere, difendere la nostra libertà, la libertà dei nostri figli, la libertà dei nostri nipoti e la libertà dei nostri domani. Quindi se vuoi salvare questo deve essere solidari, deve essere sociali, deve essere collaboratori, deve essere amici. Deve pensare, si pensa bene a te, pensa bene anche all'altro e così il mondo va avanti. Viva la pace. Viva sempre la pace e io ti ringrazio veramente Babba Sissoko, percussionista, diciamolo ancora, dal Cleto Festival a Cleto per l'appunto. Ringraziamo anche l'associazione La Piazza che dà questa possibilità ai cletesi e non solo di conoscere Cleto. Liberi.tv, Riccardo Pinstiano, Cleto. Grande, sei un grande. Grazie.